Andiamo con il nostro Jason Glaciario, una macchina assassina, ah no spera abbiamo già letto, che scemo che sono! Oh, apre la stazione significata di Cristal e che entra in pronunismo, non si legge un cazzo! Madonna, una bella casetta, un tizio che sta pescando, che ovviamente finirà male, ha pescato un pesce, no, il tizio che non ha pescato, oh mio Dio ma quanto drogato è! S'è buttato, scusa ma ti sei buttato tu, mica è stato Jason, vedi quei gabinetti Jason, sei un ragazzo muscoloso, scommetto che riuscirai a rovescialli, sì, ma ho un'arma figa, oh questo vero, non l'ho sbloccato io questa, che è un mattarello, che c'è cacchia, va bene, ah spera, mi ha detto il fatto dei bagni, ok, Ah, perché forse la mazza, ok sì, questo è la prevedibile, va bene, tu, morci, oh, vabbè il primo, il primo come si dice, primo livello, faccio, uh bella, come, bam, spiedino di ragazza! Ora, orrore del ghiaccio, sono io, ok, lei così si spaventa, io devo fare un altro rimbalzo così la spavento, vedete, madonna che tattiche, che tattiche, che tattiche, vedi? Allora, vorrei, vuole uno spiedino, no, per caccia mia, legna del ghiaccio, cosa, non prendere freddo Jason, la mamma si prenderà cura di te, ok, come devo fare? Ah, spavento questo, lo giusto al bagno, così meglio posso fare il rimbalzo, dopo, perfetto, ora io devo ammazzare questo, a lui li posso arrivare da qui? Lo spavento, poi li guà, uh, uh, una bella kill, vediamo, no, ma questo l'ho già vista, questo l'ho già vista, boccale a terra, cioè non lo riesci a prendere, ma è bellissimo, E' bellissimo, vabbè, uh, ultimo tale, muore lo spiedino, ma, oh, come l'ho fatto, già spero, ho tirato un calcio, lo ho trattato aperto, ma cosa ho fatto, lo ho capito perché io, oh, sì, sì, grazie, ragazzi, succo, il succo, il succo, il succo, il succo è buono, il succo, dai, sì, livello su, Io ho i livelli alti, ho detto una cassa, si trova un tubo, un tubo, si trova un tubo, sono un idraulico, it's me, barbaro, ma nonostante una tizia, probabilmente la dobbiamo spaventare, Ma è un maschio e una femmina, scusa, allora, sicuramente così, 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 ah, sì, sì, Final, poi, tipo, ragazzo, eh, spengo, sì, così, così, probabilmente, così, così, no, che c'ho vottuto, ok, Ehm, devo spaventare, no, ma, no, sì, spaventati qua, Sì, lo ammazzo, poi mi frego pure qui, o se io faccio questo, mi frego pure adesso, Devo riuscire a spaventarlo, ah, sì, sì, no, perché così lo ammazzo, Così, così lo spavento, e mi dai rimbalzo, perfetto, Ultimo fratello, perché? È la sua fratella, ma non mi gira, eh, non mi gira, eh, non mi gira, Ormai, essere fratelli delle vittime, che poi mi ha dato a denunciare, perché stavo giocando con quella ragazza maschile, Non so, perché qui i maledetti con i loro sporchi sci e snowboard non ti dà, non ci lasciano in pace, Scusa, siamo noi che stiamo andando ad amazzarli, però vabbè, La mamma dice una cosa, Mi sono fregato, mi sono fregato, Ormai che ho ascoltato la mamma, ok, Ah, io posso spaventare lei, Poi, Ah, vedi, 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 faccio un double kill, Ok, spavento lui, perfetto, Così io, adesso mi muovo, Oh, di con lì qua, Sono fregato, E mi so fregato una volta, Aspetta, mi so fregato, Ah, vedi, spavento questo, No, 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 capati, Devo fare in modo, Devo rimanere lui, Ok, Tipo una del genere, Tipo, Non proprio così, Mmm, Mi devi fermare lì, C'è, Mi faccio spaventare, Forse non devo spaventare lei, Ah, spaventare lui, E' cosa sa lui a torniare in posto finale, Ah, fidi, E' una mazza a lei, Una mazza a lui, No, ma spaventare, Perché devo fare, Poi non lo amassare, Non lo amassare, Non lo amassare, Prima, Ok, Così, Poi devo fare così, Poi, Ok, Devo fare, Così ammazza lui, Poi ammazza te, Poi mi frego, Poi che parola è? Spenno, No, 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 Ok, Ammazza te, Ah, Ed è giusto, Devo ammazzare, Prima questa, Questa ammazzata, Oh, Ultima tre, Va bene, Signora, Ecco, Mariosa, E' volato il tubo, E' volato, E' volato il tubo lì, Oh, Che bella famigliola, Almeno qui è caldo e carino, Gesù, Allora abbiamo una bella famiglia, A quanto possiamo vedere, E' a quanto pare, Questa famiglia non gli piace, Sushi, Cosa che non c'entra nulla, Quindi, Deve ammazzare il figlio, Perfetto, Poi bisogna ammazzare, Il padre, E poi alla fine, La madre, Che calma, Che scema, Salve, Allora lei, I metubi saltano, Non voleva entrare nel modo, Di supermoglio, C'è nulla, C'è sto cretino qua, Che è venuto a vedere, Cos'è successo, E' mi ha fatto ingazzare, Quindi, Tò, Ma, Du… MM, Pandora, Pandora, Pap lines, Papava, Papava, Papava�� Papava, 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 Papava piou, Si intrappola, Ah ok, delta, no cosa ha detto che stai verso l'ottima idea non ho letto perché va bene quindi ammazziamo lei in questo paio fa no ma è facile poi non so se no brutta su 6 su tutti skillati dammi il succo che bisogna di bere il suo sito schilla scintosetti che si muovono in giro no ma non c'è loro almeno abbiamo una cassa non bastò nello scelotto non ho avuto ma no aspa ha detto aspevo mi dici nulla no mi dici nulla va bene ehm aveva detto che io potevo togliere quello che non piacevo quindi il coltello ah no aspetta questo coltello che fa schifo fa schifo fa schifo questo cuore va bene e ma l'ho appena avuto l'ho appena avuto l'ho appena avventuto il coltellino ah mannaggia dobbiamo riuscire a spaventare questa no vabbè spera spaventarla questo poi fa ok poi ammazziamo lei l'ultimo atleta ma fai anche io guarda il mio tubo di super mario ma non è entrata dentro il tubo ma come ti permetti un'altra famiglia felice ah questi qua sono due fidanzatini che tra l'altro lei mi sa che si è ubriacato qualcosa perchè la vedo un po' brilla però va bene allora ammazziamo lui ovviamente lei non se ne prega un tubo se il suo fidanzato è morto eccoci qua ultimo secchiore che cosa perchè che cosa perchè no ma ci sono i turni ah ma non l'ho notato ma c'è pure una roba ammazza si che cacchio sto a fa qua dobbiamo lavorare allora dobbiamo fare sicuramente la cosa prendere sto ragazzone ammazziamo a lei poi così così ammazziamo a lui ora devo fare non so se se quella è vantaggiosa non c'è nessuna maniera capito spesso 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 è che c'è ma via c'è anche se faccio cosci come allora offredle e si poi a lui l'uccido un po' un po' che non c'è adesso clicco comunque però le faccio nel mix va bene puoi spammare il tasto cicci va bene non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' vero, devo schiacciare con il tuo belifero, mentre mi uccide con le mie mani. Ah, spera così allora. Così? 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 È vero! Ma dai, ma non ci credo io. Puoi mettere ore. Oh, mi hai fatto il gozzolo. Sì, sì, tu tu mi puoi. Crollo di ghiaccio. Andiamo. E la vasca idromassaggio? Io sinceramente non credo. Forse per loro potrei volerlo. Ok, lei è morta. Così ha il katsum. Ah, no. Un katsum. Ah, spera, spera. Ok, ok. Uh, kill, 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 kill. Col pugno. Ok, ah, l'ho presa, l'ho presa il video. Deve aver so... Bam, 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 bam. Solo un bravo... Come dire... Come dire. Ma vai, s'cappa. about... Qui resta la la la. Vai andare sopra. Questa è SI. Come dire... ... ... ... ... ... ... ... Is ... Sì, 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 sì. Ok, ho fatto bene. Allora, aspetta. Sto tornando all'accessione. Puede andare di qua? Sicuramente lei può fare il giro. Perfetto! Ma adesso sono epica. Eplicissima. E anche lei vuole entrare nel fantastico modo di super... Non è vero, madonna. Non è andata schivata di quell'è fiero da mento. Il fosso della paura! Perché c'è una bocca lì? Va bene. Sicuramente devo ammazzare questo qua per prima. Così mi muore. No, ah, così muore. Ok. Perfetto. Ok, per l'ultimo Susie adesso. Ah, ok. No. No, ho sbagliato. Ho sbagliato sicuramente qualcuno. Quindi... Aspia, allora. Sbagliato, ma sto tizio. Poi? Sono di qua. Non ci sono. Ok, lì. Quasi. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Si io posso? Ok. Poi faccio Tipo No, scusate, non lo devo Spesso a lui Non te, rimbalzo Eh, sì, lo mazzo di qua Poi io posso mazzarlo lui di qua Poi io posso mazzarlo Questo poliziotto che tanto è scemolito E non ci viene nulla e ammazzare l'ultima Susi Peccati questo tubo Bellissimo Bene Cultura polare Ok Sembra che sia arrivato un dato di freddo E poi c'è un poliziotto Che sta investigando su una tizia Che probabilmente morirà a breve Eh, aspetta C'ho sbagliato Perché devo andare prima da lei Ok Poi No Ah no, c'è Ho già incassinato tutto Ah no, aspetta Così, così Così, così, così Così, così Così, così Così Va bene Troviamo Allora Siccome dobbiamo utilizzare la tua giura più presto Dobbiamo fare Se dovete uccidere quell'aria e subito il calcato Un altro Perché voi con avversamenti diventano male Vabbè Sicuramente poi dobbiamo fare così Perché Vedete poi io c'ho sto tizio Però lui non lo devo Ma sarà subito Ma sarà un poliziotto Prova si scompetta Blah 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 Amalzo lui E' l'ultimo nerd Va bene Ammazziamolo Sono pronto Vai Yes Mazzola baseball suprema Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Grazie Il succo Bene Bene Livello 9 Quindi vediamo All'ultima cassa Probabilmente di questo episodio Vediamo un po' Uh Poi la Di canova Perché Va bene L'ultimo Ammoo Blah Blah Ok Coppiti bene Jason Di questi tempi si muore anche di raffreddore Ok perfetto Ammazziamo fino a lui Probabilmente lei ci servirà Per mandarla su qualche trappola Ok 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 Ah vedi io ammazzio lui Decistamente va là Io vado di qua E va bene Fatto Un'animazione Un'animazione Ha un nuovo problema Ioni Si deve vedere ioni Va bene Vediamo un po' Quale Jason zombie E Umiccio Umiccio Vado Ma Aspettana Ha perso gli occhi qua Uzzio Io non mi immagino come la nuova sarà Inversione zombie Va bene ragazzi Comunque per questo video è tutto È vero che questo video di Friday Draft Trinkle Puzzle Vi sarebbe piaciuto E quindi no Ci vediamo All'un prossimo episodio A tutti Tutta scena Final Geek Grazie a tutti